Welcome back al Tip of the Day di oggi, Friday, venerdì 17 novembre. Ancora non c'è il Black Friday del Tip of the Day, ma anche oggi posso dare dei suggerimenti utili alla classe politica italiana. Ebbene signori, la carne sintetica. Io voglio dire che sono assolutamente favorevole alla carne sintetica, perché ti basta avere una mucca da cui prelevare determinate cellule o magari, se la cellula non è completamente totipotente, più cellule diverse, perché non è che a tutti piace la stessa parte della mucca. E quindi potremmo fare la sintesi a forma di coscia, a forma di lingua, sapete che ci si può fare il brodo, e quindi creare tante mucche, quante sono le cellule, oppure prendere direttamente la cellula staminale totipotente e puoi fare tutte le mucche che vuoi a zero emissioni, perché praticamente puoi mangiarti un miliardo di mucche a partire da una cellula di mucca e senza che le mucche esistano. E allora io consiglio di fare questo anche con i nostri parlamentari. Ne potremmo tenere uno, il meno scemo, e su quello fare tanti piccoli cloni, così non dovremmo neppure romperci le balle ed andare a votare questi mangiapane a tradimento. Scegliamo un solo parlamentare e poi prendiamo una cellula che sia un ditino, non serve l'intero parlamentare, serve solo il suo ditino per votare la legge e anche gli emendamenti. Rendiamo il Parlamento monopersonale, coltiviamo un parlamentare del sintetico. Il problema è di trovare quello meno scemo. E qui forse ci arriveremo con i consigli nei prossimi giorni. Forse, spero.